sono sempre io bella a tutti ragazzi sono sempre io Coco Master e oggi siamo qua in un altro gameplay nel mio secondo gameplay avevo detto che usciva la prossima settimana se avete visto il primo video comunque esce oggi ora esce oggi insomma avete capito dunque chiamiamoci subito con un nome abbastanza osceno allora spacco famiglia ovvio spacco famiglia famiglia ora non cominciare a laggare che ecco no è ho belle pelle si pubblicità niente snun che babano allora questo gioco non ha un cavolo di musichetta quindi la musichetta la devo fare io madonna santa laggò un casino raga ve l'avevo detto io eh laggò un casino guardate lagga ora aspetto guarda non mi muovo laggò un botto vorrei farvi vedere la connessione tre tacche e già lagga così tanto io non voglio immaginare una tacca fa tutto a scatti e mi è successo per mia sfortuna mi è successo vabbè pensiamo a prendere un po' di pallini che manco li c'entra dunque ragazzi ci stiamo ingrandendo sempre di più no no ora lagga ora lagga ora comincio a laggare e non smette più dunque pensiamo adesso intanto a prendere più pallini possibili così poi possiamo mangiare qualche vermone oddio questo oddio mi chiude vai 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 dunque dai 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 cristo e prendili e qualche volta lagga qualche volta lagga qualche volta musica come stai sentendo ragazzi ho messo un po' di musica perché sennò era troppo triste il video dai 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 prendilo 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 madrfaga madrfaga nooo madonna santa da un piccolo permino deriva una grande oh guarda quante cosa c'è la bella è preso tutto madonna santa vai madonna si mi pioggia mi pioggia questo ok dunque raga niente musica niente musica qua c'è da far silenzio allora andiamo dai prendi di cose siamo ancora a 185 punti 187 188 189 e la madonna no cavolo e dunque ricominciamo a testa alta non arrendiamoci madonna che scolo ok ricominciamo a testa alta da un gran è un piccolo verme deriva un grande verme allora dai 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 allora ora ne ammazzerò perché così dunque ragazzi cambiamoci un attimo il nome perché e spacco vaniglia porta sfigo sfiga quindi chiamiamoci come ci chiamiamo normalmente coco mascher tv così forse andrà meglio allora intanto non la diamo subito allora cerchiamo di prendere più polini possibili per mangiare altri vero madonna madonna mi lagga questo mi lagga si dai di qua oddio oddio madonna quanto lagga sto gioco prendi le cose prendi le cose prendi le cose ma sono un genio sono passati tipo due minuti ora c'è la tigre e sono già 168 punti ok mangiamo questo mangiamo questo sì terribile allora questo silenzio è dato dalla mia concentrazione oddio mi lagga mi lagga no no non lagare ora non lagare ora non lagare ora non lagare ora che culo ok ragazzi raccogliamo i punti finali di questa partita che può basare aiuto oddio lo intrappolo lo intrappolo nooo prendi questo scafalcione lo intrappolato lo intrappolo nooo nooo e dunque ragazzi direi che questo video può terminare qua lasciate un like se vi è piaciuto e niente ragazzi ci vediamo in un prossimo video questa sera insieme a questo video c'è un altro che ho fatto non oggi ma di oggi fa quindi lasciate un like commentate iscrivetevi seguitemi su instagram come ripeto bianchi giovanni prossimo video bella ciao 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 ciao